Ci troviamo con Michela Carrara in quella di Viareggio, inizia la preparazione per la stagione 2022-2023. Tato, ecco anche a te ti chiedo, com'è iniziare direttamente al mare e non come al solito in montagna? Diciamo che è stata una bella sorpresa, ma proprio credo sia il modo giusto, anche per iniziare un po' più, non con calma, ma nel senso con più scioltezza. L'idea forse di andare già a prendere freddo era un po' più dura, invece così è un po' più facile la cosa. Piace poi il tipo di allenamento immagino, anche in bici, so che fate tanta bici in questi giorni. Sì certo, è un po' diverso dal solito, ma adesso all'inizio fa molto bene fare dei lunghi ed in bici sicuramente sono più belli e poi qua le strade sono bellissime per il ciclismo, quindi è stata proprio un'ottima idea. Senti, ti trovi in una squadra molto folta, è stato un gruppo veramente grande rispetto alle ultime stagioni. Volevo chiedere se è motivante anche avere sia un atleta come Elisabeth Tozzi, con cui già ti sei allenata, sia quelle ragazze molto molto giovani che spingono poi da dietro per prendersi il posto in Coppa del Mondo. Sì, beh io negli ultimi anni mi sono sempre allenata con gruppi molto piccoli, però credo che sia bello avere un gruppo grosso perché sicuramente da ognuna si può prendere qualcosa, quindi più siamo e più riesci a migliorare in ogni ambito. Quale ti ha portato per te a chiudere l'anno scorso la stagione con un risultato positivo in IBU Cup? Beh, è stato un risultato che mi ha dato un sacco di fiducia, anche perché sì, ovviamente conoscevo le mie capacità, ma è stato un anno molto difficile, quindi arrivare lì con una bella forma e fare una bella prestazione è stato proprio bello. È stimolante iniziare la preparazione per la stagione che apre un quadrienne olimpico che poi porta addirittura alle Olimpiadi in Italia? Beh, diciamo che le Olimpiadi sono molto lontane, non credo che sia proprio un pensiero di ora, però sì, sono contenta di iniziare e spero ovviamente di tornare in Coppa del Mondo a dei livelli migliori di quelli dell'anno scorso. Su cosa vuoi lavorare in particolare, migliorare? Diciamo che devo migliorare su tutto, l'anno scorso ho fatto molta fatica sui sci all'inizio e di conseguenza anche al tiro, però ho visto comunque anche a fine stagione che se riesco già a stare bene sui sci poi anche il tiro viene più facile, quindi spero che tutto giri nel verso giusto. Avrete anche un allenatore che viene dalla Finlandia, sei curioso un po' di scoprire i metodi anche di allenamento di un paese nordico? Sì, certo, penso che è una bella opportunità, porterà magari delle idee nuove o comunque degli stimoli nuovi e sicuramente ne abbiamo bisogno.